il formaggio vicentino brenta selezione oro sbanca gli italian cheese world e conquista il prestigioso primo posto nella categoria stagionati la settima edizione del concorso che assegna il più importante riconoscimento nazionale dedicato alle produzioni casearie che utilizzano il 100 per cento di latte italiano si è svolto a bologna lo scorso sabato all'interno di fico il più grande parco tematico dedicato al settore agroalimentare e gastronomia il trofeo è stato ritirato da alessandro mocellin presidente di latterie vicentine e piero cerato direttore generale dell'azienda con sede a bressanbido il formaggio made in vicenza brenta selezione oro raggiunge dunque al suo ricco palmarès un altro importante premio che si aggiunge in questo 2022 alla medaglia d'oro ottenuta al caseus benetti per la pasta dura oltre 10 mesi e la menzione speciale come formaggio d'eccellenza assegnato dalla commissione tecnica di caseus benetti 2022 la medaglia d'oro fa seguito a quella ottenuta lo scorso anno agli italian cheese award che si sono svolti a oviedo in spagna la particolarità di questo formaggio è la fase di affinamento il processo produttivo inizia a bressanbido con la lavorazione del latte vaccino pastorizzato raccolto nelle stalle delle aziende agricole dei 300 allevatori associati e stagiona naturalmente per almeno otto mesi in una grotta schio in un ex rifugio antiaereo ristrutturato dalla cooperativa vicentina brenta selezione oro viene lavorato ancora artigianalmente in tutte le sue fasi